Incidente a San Zaccaria intorno alle 17.40 di questo pomeriggio fra uno scooter Yamaha Majesti e una Mercedes S320. Gravemente ferito, un uomo di mezz'età che viaggiava in via Ponte della Vecchia in sala di uno scooter e che dopo l'incidente è finito nel fossa alla sinistra della careggiata. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Manzoni dove l'auto, guidato da una donna che procedeva in direzione San Zaccaria, si stava immettendo. In direzione opposta tuttavia stava sopraggiungendo un uomo in sala allo scooter che ha provato a frenare per evitare l'impatto ma senza riuscirci. A causa della gravità delle condizioni dello scooterista, i medici del 118 intervenuti sul posto hanno disposto il ricovero d'urgenza al bufalino di Cesena dove il ferito è stato trasportato mediante ambulanza. Sul posto, per determinare le responsabilità dell'incidente e per regolare il traffico dei veicoli lungo via Ponte della Vecchia, gli uomini della Polizia Municipale. Federico Lega per Ravenna Web TV